apple coraglio magrebino la bomba alla registrazione la stessa per lo tanto il culo la queste se ripartiamo ancora perché succede bellavere che è chiesto sardo di merda per il giugno non può negar farlo non siamo pecorai noi non siamo pastori sardi noi non siamo pastori sardi senti che buzza scappano anche i sardi sono arrivati i pastori sardi ma anche che cosa vuoi che ti ha preso le difese ho preso le tue difese olmo ciao ciao zarka zarka zarka